Le imprese e le famiglie italiane non hanno più i soldi per onorare i propri debiti. Quelle che in gergo si chiamano sofferenze bancarie, ossia le difficoltà a pagare le rate dei prestiti ottenuti dalle banche, in un anno sono cresciute del 23%, passando dai 121,8 miliardi di euro registrati a novembre del 2012 ai 149,5 miliardi di euro dello stesso mese del 2013. Numeri che ancora una volta danno la misura di quanto si approfonda la crisi economica che ha colpito principalmente il tessuto produttivo del nostro paese. Secondo i risultati dell'analisi fatta dal centro studi di un'impresa, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese italiane, la parte più grossa dei debiti che non vengono rimborsati riguarda soprattutto le imprese. Sono 103 i miliardi di euro che non vengono restituiti alle banche, più 26% in un anno. Mentre le sofferenze delle famiglie che non rendono i soldi prestati si aggirano intorno ai 31 miliardi di euro. Qui l'aumento in un anno è stato del 14%. Rispetto alla fine del 2010 e in meno di tre anni, dice un'impresa, le sofferenze si sono praticamente raddoppiate. Insomma, la crisi ha stretto tutti in una tenaglia che toglie ossigeno all'economia e riduce la disponibilità delle banche a continuare a prestare denaro. I rubinetti del credito, anche per queste sofferenze, si sono chiusi sempre di più. In un anno gli istituti di credito infatti hanno tagliato 66 miliardi di euro di prestiti, calati al ritmo di oltre 5 miliardi al mese. Un vero circolo vizioso che crea un quadro allarmante perché senza finanziamenti l'uscita dalla crisi diventa un'impresa titanica per tutti. Giusto domani, dopo 5 anni di crisi profonda, l'Unione Europea presenterà un piano da 100 miliardi di euro da qui al 2020 per rilanciare l'industria del vecchio continente. L'obiettivo è quello di ridare slancio agli investimenti nel settore manifatturiero e abbandonare così le politiche di austerità. Grazie a tutti.